Come va e bentornati sul mio canale. Prima di iniziare il video vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale di youtube qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oggi vediamo lo stato dei pagamenti dell'IMSE del mese di febbraio nella prima metà del mese. Quali sono previsti i pagamenti? E poi ci sarà un altro video che uscirà prossimamente e vedremo lo stato dei pagamenti della seconda metà del mese. Quindi oggi vediamo i prossimi pagamenti del mese da parte dell'IMSE per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, la pensione, l'annaspica, i cartacquisti, assegno unico eccetera eccetera. Quindi nella prima parte del mese sono previsti questi pagamenti. Partiamo con il pagamento dell'assegno unico contemporaneo a partire dall'11 di febbraio e comunque molti di voi già lo hanno ricevuto. Poi abbiamo il bonus mamma domani a partire dal 14 di febbraio. Poi abbiamo il reddito di cittadinanza per chi lo riceve la prima volta o per chi avrà il pagamento dopo il rinnovo del reddito di cittadinanza dopo 18 mesi di pagamento e questo viene dal 15 di febbraio. Poi avremo l'assegno temporaneo di gennaio sul reddito di cittadinanza a partire dal 15 di febbraio. Poi avremo l'assegno unico temporaneo di gennaio a partire anche questo dal 15 di gennaio e poi avremo la pensione di cittadinanza per chi la riceve la prima volta anche questa a partire dal 15 di febbraio. Come sempre se avete altre date o vedete altre date sul sito internet dell'Inps o vi sono arrivati ulteriori aggiornamenti fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi al mio canale di youtube qui sotto e di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Ci vediamo come sempre in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di youtube. Vi aspetto! Ciao!